Dovete togliere qualche macchia dalla vostra coscienza? Appunto, il bucato sta per avere inizio. Anna! Perdonatemi, signora Villavali. So bene che non posso più permettermi di chiamarvi Anna, ma se voi volete potete continuare a farlo. Posso chiamarvi Anna? Simpatica, sì, molto simpatica. Anna, sapete che se fosse ripreso da me ora, non saresti la vedova del banchiere Villavali, ma la sposa felice del conte Danilo Danilovic. La mia famiglia ha impediti. Oh sì, e oggi ci sono la ricca e i vitiere a Villavali. La vostra famiglia li toglierebbe questi impedimenti. Non è così? Conte Danilo? Allora vi ricordate ancora il mio nome? Diciamo vagamente. Addio! Addio! Direttore d'orchestra, nonché direttore musicale, direttore artistico, produttore e commissario tecnico, Stefano Geroni. 2, 4, 6, 8, 8, 8 meravigliose gambe nel vostro palletto! Il più grande attore vivente, Francesco Dei. Chioma Fulvio Massa! Ringraziamo Angelo Scardina! Elena Rappita! Antonia Borea! Silvia Pelsetti! Alessandro Borelli! Grazie! 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 Grazie!